Dopo gli aggiornamenti che vi abbiamo dato nella rassegna stampa, continua la giornata dell'Udinese in questa sorta di mini ritiro, chiamiamolo così, in questa partenza anticipata per il capoluogo siciliano, per Palermo, dove si svolgerà nella giornata di domani la partita Palermo-Udinese. Oggi sarà una giornata per i ragazzi bianconeri all'insegna del lavoro, sostanzialmente lavoro tattico, infatti noi lo seguiremo, riprenderemo finché ci sarà possibile, poi non andremo a scrutare i dettami tattici di Colantuono che vuole preparare benissimo questa partita con i 22 ragazzi che ha a disposizione. Oggi c'è stata la sveglia per i giocatori alle 9, poi con l'azione alle 9.30 e trasferimento proprio qui al centro sportivo universitario di Palermo, meglio conosciuto come CUS, sito in via Altofonte numero 80. Siamo arrivati ed effettivamente un bel ambiente, un bel campo da calcio come si vede alle mie spalle, anche un discreto affetto da parte di, non consideriamoli ovviamente tifosi bianconeri perché non è possibile, ma dei curiosi tifosi rosa-nero che si sono accalcati e stanno tuttora facendo le foto con i giocatori. Ovvio che sono rimasti forse un pochino delusi dall'assenza di Totò di Natale, a cominciare anche dal tassista che ci ha ascoltato qui perché manca il capitano per questo affaticamento alla coscia sinistra, è lui il giocatore simbolo dell'Udinese in molti, anche in molti bambini che erano qui ad aspettarlo. Sono rimasti un po' delusi ma si sono rifatti con i vari Lodi e tanti altri giocatori che si sono fermati proprio per foto e autografi, è una bellissima giornata di sole come si vede, splende il sole su questo campo, in questo bel centro sportivo. Anche se c'è qualche nuvola che sta minacciando il sole ma la temperatura è assolutamente primaverile, lo si capisce anche dal nostro abbigliamento, l'ideale per una seduta, come abbiamo detto, tattica per preparare benissimo il Palermo in una partita che come abbiamo detto a più riprese non si può sbagliare. Ed eccoci poco fuori il rettangolo verde di gioco del campo sportivo del CUS di Palermo, siamo proprio all'interno del centro sportivo universitario, alle nostre spalle anche le strutture che dominano questo locale, molto importante per il movimento sportivo universitario di Palermo, è molto importante quest'oggi per i preparativi dell'Udinese verso la partita contro il Palermo, contro la squadra Rosa Nero di Guillermo Barroso Schelotto, vedremo se in panchina riuscirà ad esserci lui o ci sarà Viviani, insomma questo poco conta, certo è che sulla panchina dell'Udinese siederà Colantuono che oggi come abbiamo visto ha fatto allenare i suoi in maniera anche abbastanza intensa, ha chiesto ai suoi ragazzi soprattutto quello, il massimo dell'intensità, della concentrazione, sorrisi sì ma ben dosati, perché effettivamente ci si gioca parecchio in questa sfida che a livello di classifica racconta molto tra due squadre che vivono momenti difficili, il Palermo non nel breve periodo ma nel complessivo di una stagione che la vede al quarto ultimo posto, l'Udinese forse solo più nel breve periodo dopo le due vittorie molto belle contro Torino e Atalanta, adesso si trova a fare i conti con due sconfitte consecutive particolarmente pesanti contro Carpi e Juventus, due sconfitte dal Sapore, sicuramente diverso ma che hanno lasciato ovviamente un po' il morale basso nei ragazzi bianconeri che vogliono riprendersi immediatamente con questa gara come vi abbiamo promesso e ovviamente come sempre facciamo non siamo rimasti a riprendere anche la parte tattica perché ovviamente le scelte di Colantuono sono più che mai da tutelare, sono sacre anche se da quello che si legge sui giornali è ovvio che permarranno penso fino praticamente a poco prima della partita da quei due o tre dubbi di formazione che il mister si porterà dietro in particolare a centrocampo in questo ballottaggio tra Bruno Fernandes e Iturra e in attacco con la corsa a quello che sarà il compagno di Itero, vista l'assenza di Natale, sono tutti in carreggiata sia Ghirre che Perizza che Duvan Zapata, sono tutti pronti a dire la loro ma ci sarà bisogno di tutti, non è la classica frase fatta, sia degli undici in campo, dei tre che entreranno ma anche dei ragazzi che rimarranno in panchia, questo lo sa bene Colantuono, lo sa bene il gruppo che ha lavorato davvero alla grandissima quest'oggi qui al CUS di Palermo ed è pronto a quella che sarà la sfida delle ore 15 del Renzo Barbera in cui si giocherà ovviamente una buona parte di salvezza, dobbiamo anche chiamarla così perché alla fine è un confronto diretto per la permanenza anche se le tre squadre dietro ovviamente non stanno viaggiando a ritmi altissimi però bisogna sempre guardarsi le spalle dopo queste due sconfitte consecutive e cercare di fare il meglio possibile sul campo del Palermo.